Di Libia, tu piccante ma felice, forse il tuo gol più importante? Sì, è a pensare che me l'ero sognato, l'ho sempre sognato di fare un gol importantissimo al derby e il sogno è diventato realtà. Sono molto contento, dedico questo gol a tutti i tifosi padovani, sono stati fantastici veramente oggi. L'ho sognato e avevo fatto anche un fioretto in settimana e mi debiterò, portando la maglietta della Lazio purtroppo.